Dimagrire mangiando tutto. In questo video, io e Mario, ti andiamo a spiegare perché devi mangiare proprio tutto, se vuoi dimagrire sul serio. Mi chiamo Mario, è Valerio, dottore nutrizionisti fondatori di dieta flessibile Italia, e come dice il nome stesso, dieta flessibile ti permette di mangiare tutto. Eppure ci sono ancora migliaia di professionisti della salute, così possiamo dire, che vietano i cibi, che eliminano intere categorie di roba da mangiare, diciamo dando delle motivazioni che possono sembrare più o meno sensate, e che quindi ti dicono che per dimagrire devi necessariamente togliere la categoria di cibo X, la categoria di cibo Y, sino che possono essere chi sostiene che i legumi facciano male, a chi sostiene che faccia male alla carne, a chi toglie il glutine, i latticini, e così via. In questo video vedremo in realtà che si può benissimo dimagrire mangiando tutto, come fanno le migliaia di persone che sono all'interno della nostra community, gratuita su Facebook, che seguono le nostre pagine social, e che hanno capito che per dimagrire realmente non serve eliminare alcun cibo. Quindi cominciamo subito a vedere gli errori comuni nell'eliminazione dei cibi. Uno dei primissimi errori è proprio pensare, un po' per luogo comune o un po' per ignoranza, pensare che esistano dei cibi che fanno dimagrire e dei cibi che invece fanno ingrassare. La verità è che ad oggi la scienza e la ricerca scientifica esiste giusto da un pochino di anni, non ha assolutamente dimostrato che sia vero. Cioè la scienza, la ricerca, tutti i test, tutte le analisi e tutti gli studi condotti su persone a dieta hanno dimostrato che non esistono dei cibi che fanno ingrassare e non esistono dei cibi che fanno dimagrire. Semplicemente chi ingrassa, ingrassa perché mangia troppo, mangia più calorie di quelle che è in grado di bruciare, chi perde peso lo perde perché mangia meno calorie di quelle che è in grado di bruciare. Infatti è verissimo, esistono dei cibi che sono più densi di calorie rispetto ad altri. Quindi se noi facciamo una dieta ad eliminazione casuale, cioè togliamo un po' di roba in modo che mangiamo meno e in teoria dimagriamo, questo approccio può funzionare solamente quando noi eliminiamo determinate categorie. Quindi vai a fare una dieta a sensazione, mangiando cibo più sano, più pulito, perché i cibi sani e non sani invece esistono, e che fai probabilmente elimini dei cibi molto densi di calorie. Quindi è normale, se mangi normalmente ogni giorno cibi fritti, pizza, patatine, torte, dolci, gelati e così via in maniera incontrollata e poi a un certo punto li elimini, probabilmente stai dimagrendo perché hai eliminato un grosso surplus calorico dovuto da questi cibi che non è che fanno ingrassare, semplicemente sono molto ricchi di calorie. Quindi quando tu vai a togliere dei cibi come la torta che mangi ogni giorno o il, non so, il pezzo di un pane fritto o qualsiasi cosa che sia ricca, ricca, ricca di calorie dovute in genere a carboidrati e grassi, dimagrirai. Ma non è detto che dimagrirai in modo sostenibile o che dimagrirai perché perdi principalmente massa grassa. Infatti nell'approccio alla dieta flessibile noi possiamo inserire tutti questi cibi controllando le porzioni e la quantità grazie all'approccio basato sul calcolo e la registrazione dei macronutrienti che assumi durante la giornata. Vediamo adesso l'errore numero 2. L'errore numero 2 che ti fanno fare quando ti fanno eliminare un'intera categoria di alimenti è proprio il fatto che eliminare un'intera categoria, mettiamo i carboidrati, quelli più oliati, più gettonati quando bisogna fare la dieta e eliminare i carboidrati ti espone a delle gradi carenze nutrizionali. Devi capire che ci sono dei micronutrienti che è possibile ottenere solo mangiando una specifica categoria alimentare. Facci caso, tutte le diete drastiche a eliminazione anche quando te le propone un professionista e te le propone il più delle volte per comodità perché per lui è troppo pesante spiegarti come dovresti gestire l'alimentazione per lui è molto più facile dirti guarda elimina questo e poi sono cavoli tuoi. Se ci fai caso tutte queste diete poi ti spingono, ti costringono, tra virgolette, a integrare con una qualche forma di integratore alimentare di magari vitamine, di sali minerali, di micronutrienti essenzialmente perché? Perché farti eliminare i carboidrati nel loro complesso ti porta poi a trovarti carente in determinati micronutrienti. Allo stesso modo con i grassi, allo stesso modo se dovessi mangiare un quantitativo molto ridotto di, non so, proteine magari di origine animale. È vero, anche noi abbiamo ad esempio una linea di integrazione alimentare ma la dieta flessibile ti permette di essere eseguita senza essere costretto a integrare. Ad esempio è consigliato integrare sali minerali, vitamine o se fai sport creatina, proteine in polvere e così via per avere una migliore performance, per gestire più facilmente la propria dieta ma se segui una dieta bilanciata come la dieta flessibile fatta con tutti i criteri giusti però cibo 80% sano e 20% quello che vuoi, macronutrienti corretti, non avrai l'obbligo di integrare. È vero che oggi la qualità dei cibi è un po' più scarsa rispetto al passato, quindi magari se mangi frutta e verdura oggi sicuramente non avrai gli stessi micronutrienti di frutta e verdura di 40 anni fa. Però comunque con una dieta sana ed equilibrata, introducendo tutti i macronutrienti, carboidrati, grassi e proteine, non devi essere costretto ad assumere integratori per forza. Invece sono gli interi di dosotie nutrizionali che si basano sul fatto che devi comprare determinati prodotti, magari promossi da quel professionista stesso, oppure devi necessariamente integrare qualcosa tipo sali minerali o vitamina B12 e così via perché se no con la dieta non si può fare fa male. Ragionaci, se qualcosa deve essere necessariamente dipendente da un oggetto esterno non naturale e alimentare, probabilmente c'è qualcosa che non la rende sostenibile a vita e non la rende perfetta. Quindi pensaci un attimo su. Adesso andiamo a vedere anche l'errore numero 3 nell'eliminare determinati cibi che ti porta a non poter, ovviamente, dimagrire in modo sostenibile. Errore numero 3, che è quello di cui essenzialmente soffrono praticamente tutte le persone che si rivolgono a noi per essere aiutate, è il fatto che eliminando un'intera categoria di cibi, quindi magari eliminando per sempre, non so, dei cibi processati, eliminando per sempre cibi lievitati, eliminando per sempre una certa categoria specifica di dolci, esponi il tuo intestino all'incapacità di elaborare quei nutrienti. Vedi, se tu elimini quell'alimento, il tuo intestino, che fino a quel momento è abituato a riceverlo, a gestirlo, a scomporlo, a dividerlo nei suoi nutrienti e fartelo utilizzare in modo migliore per il tuo organismo, dal momento in cui tu lo vai a eliminare, inizia a perdere piano piano, ma in realtà è anche abbastanza veloce in termini di abitudini del tuo intestino, inizia a perdere la capacità a gestirlo appunto, quindi eliminandolo ti sarà sicuramente successo, pensaci un attimo, elimini per tanto tempo i dolci dalla tua dieta, elimini per tanto tempo pane e pizza, quindi magari prendiamo in considerazione i prodotti lievitati, li elimini per uno, due mesi, che sono quelli della dieta, nel momento in cui li vai a reinserire, vedi che ti gonfia lo stomaco, inizia a avere difficoltà digestive, inizia a avere una serie di disturbi, anche abbastanza fastidiosi, e sei portato a pensare che quel cibo non lo gestisco, non fa per me, la mia genetica non mi consente di mangiare la pizza, bene, ho una notizia per te. Nulla di tutto questo è vero, la tua genetica prevede che tu possa digerire qualsiasi cosa, disclaimer, a meno che tu non sia allergico o fortemente intollerante a qualche alimento. Infatti, una delle cose che può capitare normalmente è che una persona si senta meglio eliminando determinate categorie di cibi, ad esempio elimino i legumi, il glutine, i latticini. Ok, ci sta, perché probabilmente quella persona ha una determinata ipersensibilità, una intolleranza, un'allergia, l'allergia te ne accorgeresti comunque subito, verso una determinata categoria alimentare. In quel caso va bene eliminarla, perché è una patologia conclamata. Ma per la maggior parte delle persone, che lo fanno anche un po' per moda, per esempio oggi c'è la moda del mangiare senza glutine, non è necessario. Infatti, con la dieta flessibile noi riusciamo a inserire tutto e non avere nessuna, e dico nessuna, problematica nel gestire determinati cibi. Perché? Perché lo facciamo seguendo il concetto dell'80-20. Quindi l'80% della tua alimentazione è principalmente data da cibi sani, quindi cibi non estremamente processati, non cibi spazzatura, cibi nutrienti, quindi verdure, frutta, cereali integrali, proteine, proteine del pesce, dell'uovo, della carne, e così via. E anche quelle vegetali. Mentre invece il 20% mangerai un po' quello che vorrai, che è cibo che si definisce magari, non per forza spazzatura, ma non proprio sano e perfetto. Potrebbe essere la crema, il cioccolato fondente, che magari è di buona qualità, ma che comunque non è l'ideale in una dieta bilanciata e ottimale. Ma se la mangi nel 20% della tua giornata, non ci sono studi che dimostrano che crei problemi in nessun modo. Quindi tu potrai assumere tranquillamente il tuo 20% di cibo, che sia pieno di glutine, che sia un latticino, o che sia qualcosa di gustoso, come la crema al cioccolato che tanto ti piace, che adori, che tutte le diete ti fanno eliminare, e non avere assolutamente alcun problema. Il beneficio di fare tutto questo è che questo 20% basta per permettere al tuo stomaco e intestino di funzionare ottimamente, di continuare a produrre gli enzimi necessari a gestire questi cibi, e a digerire e assimilare i cibi in modo corretto senza crearti problemi. Quindi immagina di non dover sacrificare per sempre poi la pizza, perché dopo che l'hai eliminata per tanto tempo non la riesci più a digerire. Oppure, come era successo a me anni e anni e anni fa, prima di conoscere la dieta flessibile, strutturarla in questo modo, e diffonderla a tutto il territorio italiano, di mangiare solo cibo sano e poi avere un intestino distrutto che ho dovuto ricolonizzare e sistemare per mesi e mesi prima di poter finalmente concedermi nuovamente una pizza, una torta o un cibo gustoso, piuttosto che mangiarlo e dover andare immediatamente in bagno perché avevo distrutto il mio intestino. Quindi non eliminare intere categorie di cibi, perché questo è uno degli errori più gravi quando vuoi dimagrire mangiando tutto. E quindi come dobbiamo strutturare una dieta se vogliamo realmente dimagrire mangiando tutto senza spappolare il nostro metabolismo e il nostro intestino? Dobbiamo assolutamente, che è la base di ogni dieta, capire il livello di calorie necessario al nostro organismo, quindi basta fare le diete drastiche in cui ti metti a fare la fame. Una volta che hai capito questo, capirai come dividere le proteine necessarie, i carboidrati necessari e i grassi necessari. In questo modo puoi scegliere tu gli alimenti da mangiare, sempre come ti ha spiegato Mario, ma scegli tu gli alimenti da mangiare per raggiungere questo fabbisogno di nutrienti. Quindi tutto questo è fattibile grazie alla dieta flessibile, scopri le risorse che abbiamo preparato per te in descrizione in questo video e potrai anche prenotare una chiamata, una telefonata di avviamento gratuita con uno dei nostri consulenti che può spiegarti come funziona nel dettaglio del sistema di dieta flessibile e qual è il percorso migliore per essere eseguito direttamente da noi, dai dottori nutrizionisti fondatori del sistema di dieta flessibile d'Italia, che hanno trasformato la vita di migliaia di persone ad oggi, in modo tale da far sì che tu possa dimagrire mangiando tutto e non doverti sacrificare ogni volta, rinunciando ai cibi che più ami e a soffrire magari ore e ore e ore in palestra, per avere un corpo tonico e snello e poi dover riprendere tutto il peso appena smetti di fare i sacrifici e quindi smettere una volta per tutte le diete. Quindi se vuoi smettere le diete restrittive e cominciare una dieta che funzioni davvero e che non sia il classico concetto di dieta che ti faccia snervare e distruggere la vita pur di ottenere il fisico e desideri, controlla i link in descrizione, richiedi una chiamata con uno dei nostri consulenti di avviamento e unisciti a noi nella comunione di Dieta Flessibile Italia su tutti i canali social. Quindi se ti è piaciuto questo video, intanto per prima cosa, metti un like, un pollice in su, vuolchè condividilo e iscriviti ai nostri canali social. Ti basta cercare Dieta Flessibile Italia su tutti i social. Per oggi è tutto da Mario e da Valerio i fondatori di Dieta Flessibile Italia.